ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio sui cambiamenti di genere se siete curiosi di vedere altre trasformazioni di questo tipo sul mio canale troverete una playlist dedicata ai vip e un'altra agli youtuber iscrivetevi e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati ovviamente sto usando photoshop cs6 e vi ricordo che il video non vuole essere offensivo se non gradite i makeover non guardate oggi è il momento di alvaro soler è nato a barcellona il 9 gennaio del 91 ed è un cantatore spagnolo suo padre tedesco e sua madre metà spagnola e metà belga ha vissuto per sette anni a tokyo e parla inglese tedesco spagnolo italiano e giapponese dopo la laurea in design industriale si è trasferito a berlino dove ha cominciato la sua carriera raggiungendo la notorietà grazie ai grani il mismo sol e sofia è stato giudice vincente della decima edizione di x factor italia e nel giugno 2017 ha pubblicato io contigo tu conmigo che fa parte della colonna sonora del film cattivissimo me 3 questo lavoro ha richiesto circa tre ore e venti spero vi piaccia fatemi sapere chi vorreste vedere nelle prossime puntate non per forza sceglierò l'opzione più popolare la musica di sottofondo è reaching out di sapphire us ora ve la lascio ascoltare meglio ci sentiamo alla fine ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.